Un desiderio d'amore e pura libertà, il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità, Ave Maria, Ave Maria. Do il benvenuto a nome del santuario a tutti i pellegrini italiani che partecipano qui a questa cappellina dove è apparsa la Madonna. Sono presenti in particolare quattro gruppi provenienti da varie parti dell'Italia, il gruppo di Don Ciriaco, Parroco di Santa Margherita e San Rocco, Diocesi di Tivoli e Palestrina, il gruppo di Don Giovanni Casarotto, Diocesi di Vicenza, il gruppo di Don Fabrizio Fuccelli, Diocesi di Perugia, Città della Pieve, e il gruppo di Don Domenico Pezzella, Diocesi di Aversa, e Don Domenico presiede questa Eucharistia che celebriamo in onore nella festa di San Matteo, Apostolo ed Evangelista. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace, nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Introduzione e il saluto che ci dava Padre Carlo al nome del Santuario, ricorda che veniamo da strade diverse, abbiamo fatto strade diverse per arrivare qui, ai piedi della Vergine Maria, però abbiamo nel cuore l'unica chiamata alla Santità che abbiamo ricevuto il giorno del Battesimo. E' quel Battesimo, quella fiammella accesa, il giorno in cui siamo diventuti cristiani, che ci permette di sedere alla mensa del Signore. E allora riconosciamo di aver avuto questo grande dono, quello della chiamata del Signore come l'ha avuto a Matteo e ascolteremo nel Vangelo. E chiediamo perdono per tutte le volte in cui non siamo stati fedeli al nostro Battesimo. Ci siamo dimenticati di Dio nella nostra vita, della Sua presenza, non ci siamo fidati di Lui. Riconosciamoci peccatori bisognosi della misericordia del Padre. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kiri e Leison. Cristo, che hai dato la Tua vita e riscatto per tutti, Christe e Leison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kiri e Leison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria in eccelsis Deo. Gloria, gloria in eccelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio onigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo Te possiamo aderire fermamente alla Tua parola per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amo. Dalla lettera di San Paolo Apostola agli Efesini. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. E diamo grazie a Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I scieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affide il racconto. E la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. E ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Alleluia! 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 Noi ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama il coro degli Apostoli. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i Suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai Suoi discepoli, come mai il vostro Maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti. ma i peccatori. Parola del Signore. Glorie a Teo Cristo. Oggi la Chiesa ci fa vivere, celebrare la festa di San Matteo, apostole ed evangelista. Celebriamo un apostolo, celebriamo uno che si è fatto carico della missione di annunciare il Vangelo, di portare l'esperienza di Cristo agli altri. Mi sorge spontanea una domanda che vorrei, insieme con voi e alla luce di questa celebrazione, di questa parola ascoltata, farmi, e che vorrei potessimo farci tutti. cosa è che presuppone l'annuncio di Cristo? Cosa è fondamentale? Vivere, non fare, vivere prima di andare ad annunciare il Signore, andare ad annunciare il Vangelo. La risposta a questa domanda dovrebbe essere scontata. Il più delle volte, nella prassi ordinaria della nostra vita di fede, e a volte anche, permettetemi di dirlo, nelle nostre comunità, non lo è affatto scontata. Per annunciare Gesù Cristo c'è bisogno di averne fatto esperienza. Questa è la vicenda che vive San Matteo. Lui che era un pubblicano, pubblicano significa pubblico peccatore, secondo il quale, secondo la legge ebraica, non c'era possibilità di salvezza, di redenzione. Uno fuori dalla salvezza, su di lui, che era seduto al banco delle imposte, riscuoteva le tasse per un governo straniero e nemico, che era quello romano, su di lui posa gli occhi di misericordia il Signore Gesù. Attenzione, già questo dice tutto, plasticamente, ci dà la concretezza di quello che poi Gesù ha detto nella seconda parte di questa pagina del Vangelo. Cioè che la salvezza del Signore è per tutti. Tutti. Siamo in questo luogo santo, benedetto, dalla presenza della Vergine Maria, in cui, in tutte e sette le apparizioni, la Vergine ha chiesto ai pastorelli, ai santi pastorelli, di pregare e di fare sacrifici di riparazione per la conversione e la salvezza dei peccatori. Nessuno, nessuno è escluso dalla salvezza del Signore. Dovremmo ricordarcelo doppiamente. Ogni volta in cui noi facciamo esperienza della nostra miseria, ogni volta che non ci sentiamo abbastanza, magari davanti agli altri, davanti a noi stessi, davanti a un mondo che ci giudica per quelle che sono le nostre apparenze o prestazioni, per Dio, per Dio, ognuno è oggetto della sua misericordia, è oggetto del suo amore. Dovremmo ricordarcelo poi ogni volta che ci troviamo davanti al fratello e abbiamo la tentazione di farci giudice. Se Dio non ci giudica, ma ci dona la sua misericordia, chi sono io per farmi giudice del mio fratello? Matteo, Levi, questo era il suo nome, viene giudicato con misericordia dal Signore. Il Signore passa e lo chiama e gli dice questa parola seguimi ed egli si alzò e lo seguì. E così il Signore ci ricorda che Lui non è venuto per i sani, ma per i malati. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate ad imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio e non sacrifici. Aggiunge ancora Gesù, io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Domanda, noi che siamo qui convocati alla mensa del Signore, ma dobbiamo sentirlo per davvero questo, siamo forse migliori degli altri? Nel momento in cui noi ci accostiamo al Signore, facciamo una presa di coscienza che poi dovremmo portarci a partire da chi vi parla, noi non siamo esenti, noi consacrati, facciamo una presa di coscienza con la quale riconosciamo che noi siamo malati, siamo peccatori, siamo deficitari e perciò abbiamo bisogno della grazia del Signore. Come inizia la celebrazione equalistica? Quella che abbiamo appena, che stiamo celebrando e tutte le altre celebrazioni, se non con l'atto penitenziale, un atto in cui noi dopo esserci messi alla presenza del Signore, dopo esserci segnati con il segno della croce, poi riconosciamo di essere cosa? Peccatori, bisognosi della misericordia del Padre. È quella, la condizione sine qua non, la condizione senza la quale noi possiamo incontrare il Signore, possiamo ricevere la Sua grazia. Non si tratta di battersi in petto e fare degli inutili piagnistei, ma riconoscere che la mia vita senza Dio sarebbe nulla. L'esperienza dell'infinita misericordia di Dio nella mia miseria mi permette di accoglierlo, riconoscerlo e poi testimoniarlo agli altri. Non chiudiamo il cuore, non abbiamo mai, chiediamo alla Vergine di aiutarci anche ai Santi Pastorelli che sono rimasti umili. L'umiltà, il silenzio, la semplicità di questo posto, anche di questo santuario che tutti gustiamo in questi giorni, ci aiuti a restare umili anche davanti al Signore, a non montarci la testa, a sapere che ne ad aprire il cuore alla Sua misericordia. Io lo dico sempre in parrocchia da me per metterlo in punta di piedi in questo luogo così bello e significativo. Noi quando entriamo in Chiesa, a volte abbiamo la presunzione di essere migliori degli altri, perché noi sì e gli altri no. Noi quando entriamo in Chiesa stiamo dichiarando che noi non stiamo bene e abbiamo bisogno di cura. Gesù ce l'ha detto. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ricordarcelo ci aiuterebbe non a mortificarci, ma a aprirci alla grazia e a stare meglio tra di noi. Perché io ricordo che il fratello che vedo accanto a me convocato alla mensa del Signore, anche lui è debole come me. E allora ho compassione per lui. Avete mai visto in una corsia d'ospedale i malati ricoverati che si fanno la guerra tra di loro? O che fanno a gara chi è migliore? No, semplicemente c'è anche tanta solidarietà perché condividono la stessa pena. Noi siamo tutti convocati, chiamati perché bisognosi, malati, bisognosi della misericordia del Signore. Lui non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché possa lui offrirci l'unico nella vita in questo mondo offrirci la salvezza, una salvezza che ha pagato a caro prezzo, quella del suo stesso sangue. Oggi il mondo può offrirci tante cose. Siamo qui, possiamo in un click collegarci con l'altra parte del mondo, possiamo fare tutti gli elisir di lunga vita, tutti i comfort di questo mondo, ma solo Dio, solo Dio può darci la salvezza e può darcela per l'eternità. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preghiamo perché anche ai nostri giorni la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà nei primi testimoni di Gesù Cristo risorto. Preghiamo insieme e diciamo Ascoltaci o Signore. Ascoltaci o Signore. Donaci Padre la fede e la carità degli Apostoli per la Chiesa edificata sulla testimonianza degli Apostoli offre al mondo l'unica ricchezza che possiede, Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo. Preghiamo. Ascoltaci o Signore. Per tutti i discepoli del Vangelo, sull'insegnamento degli Apostoli, vivano uniti in una sola fede, un solo Signore, un solo Battesimo. Preghiamo. Ascoltaci o Signore. Per la nostra comunità, radunata nel ricordo degli Apostoli, spezzando il pane in letizia e semplicità di cuore. Lodi il Signore e attragga nuovi fratelli nella Chiesa. Preghiamo. Ascoltaci o Signore. In un istante di silenzio ognuno consegna al Padre la propria preghiera. O Dio, che hai confermato con la Tua potenza l'umile e gioiosa testimonianza degli Apostoli, concedi anche a noi di diffondere il Vangelo con la forza e la sapienza del Tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Allora, ammè. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e mentre il cielo si imbianca già tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà e sulle rive di ogni cuore le tue reti giù. getterai, offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggio ormai è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. preghiamo insieme fratelli e sorelle perché portando all'altare questo sacrificio, il sacrificio della nostra vita, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, la lode e gloria del Suo nome per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. nella memoria di San Matteo ti presentiamo, Signore, le preghiere e le offerte. guarda con benevolenza la Tua Chiesa, che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli. per Cristo nostro Signore. il Signore sia con voi. in alto i nostri cuori. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la Tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della Tua Santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli Angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la Tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. O Sanna, O Sanna, O Sanna, O Sanna nell'alto dei Cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. O Sanna, O Sanna, O Sanna nell'alto dei Cieli. Veramente Santo sei Tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e Ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale, Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. «Ricordati, Padre, della Tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i Presbiteri e i Diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di partecipare alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e Suo Sposo, gli Apostoli, San Matteo e tutti i Santi che in ogni tempo Ti furono graditi. E in Gesù Cristo, Tuo Figlio, canteremo la Tua lode e la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con fiducia, come figli dello stesso Padre, perciò, fratelli tra di noi, preghiamo insieme il Padre come il Figlio Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con gioia e verità, scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, apri pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beate gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non so di partecipare alla valenza, ma di soltanto la parola di Dio, sono sempre la parola di Dio. Grazie. Ecco l'agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Grazie. 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 Dove carità e amore, qui c'è Dio. Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore, godiamo e soltanti nel Signore. Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi, con cuore sincero, dove carità e amore, qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. Via le lotte maligne, via le viti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Chi non amare sta sempre nella notte, e dall'ombra della morte non risorge. Ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Preghiamo. O Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare, non i giusti, ma i peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione finale, invochiamo la benedizione del Signore su tutti gli oggetti religiosi che avete con voi, o avete anche in ote nelle vostre strutture, la benedizione non ha limiti che avete preso in questi giorni e che porterete a casa. Preghiamo. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria e dei Santi Pastorelli, vi benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniamo il Signore con la nostra vita, andate in pace. Dio Onnipotente che è un'altra vita, andate in pace. Il 13 maggio apparde Maria, a tre pastorelli in cova di Lìa. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Grazie.